Marginale aumento della borsa di Milano, mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro, dove prevalgono i buyers Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto tecnologia, più 2,50% Aumenta di poco lo spread, che si porta a più 138 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,29% Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Italia, annunciate le vendite al dettaglio, pari a meno 0,4% In Cina domani i mercati sono in attesa dei prezzi al consumo. I mercati sono in attesa della produzione industriale dell'Unione Europea, in previsione sempre domani I mercati sono in attesa delle scorte di petrolio degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio Attesa una partenza stabile per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 15.686 punti